Numeri vicino al record assoluto, quello dell'ottava tappa dello Ski Tour Freerider Sports Events dedicato all'insegnamento dello sci da seduti dedicato a persone con disabilità. Alla tre giorni organizzata sulla neve di Bormio dall'Associazione Varesina in collaborazione con il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e il team Teleflex for Active Living sono arrivati da tutta Italia 132 tra disabili, operatori, tecnici e volontari, protagonisti anche della gara integrata Teleflex Winter Cup che ha visto al cancelletto di partenza 61 iscritti. Per i volontari della Freerider, al loro sedicesimo anno di attività disegnata dal Trentino Alto Adige all'Abruzzo per due anni consecutivi anche in Sicilia sulla neve dell'Etna, è stato il prologo migliore del gran finale dello Ski Tour in programma dal 7 al 9 aprile a Madonna di Campiglio. Tra gli aspiranti sciatori di Bormio ha fatto il suo esordio anche il giovanissimo Daniele Pomilia, gran capitano dell'Associazione Corro per Dà, arrivato da Mazzara del Vallo in Valtellina insieme alla sua famiglia al gran completo, accolto dall'ambiente Freerider con la sua consueta disponibilità e professionalità, subito contagiato dall'entusiasmo generale. Favorito dallo splendido sole purtroppo raramente presente nelle precedenti tappe. Dà, così vuole essere chiamato Daniele, è solo l'ultimo in ordine di tempo dei siciliani che incontrando la Freerider hanno imparato o ritrovato la gioia dell'aria in faccia e dell'autonomia attraverso lo Ski, come accade con il tennis, l'handbike, il volo a vela, il canottaggio e il golf nei campi estivi, organizzati dalla stessa Freerider in provincia di Varese, in collaborazione con l'Associazione Spina Bifida Italia. Parallelamente all'impegno organizzativo, i volontari della Freerider aggiungono quello promozionale nelle unità spinali italiane e quello culturale condiviso con realtà sportive e sociali dell'intero territorio nazionale. Consolidato è inoltre il rapporto con la direzione degli impianti di risalita e le aziende di ricettività alberghiera con le quali si è sviluppata nel tempo una proficua collaborazione in tema di accessibilità. Nessuna delle strutture comprese nello Ski Tour, come in ogni altra manifestazione e iniziativa, è specifica per disabili semplicemente perché la cultura è per le persone non divisa per condizione o categoria. L'obiettivo originario della Freerider è rimasto quello di sempre, insegnare lo sci da seduti a persone con disabilità, che una volta imparata la tecnica possano sciare quando e con chi vogliono, con la famiglia e gli amici, per divertirsi o per gareggiare, inseguendo il sogno di un'avventura alle Paralimpiadi, sogno realizzato per ben due volte dal freerider Luca Chino Marraffio. Ma ogni tappa dello Ski Tour genera incontri e conoscenze che allargano sempre più una rete di attenzione per gli altri. Capita ogni volta, azzerando strati sociali e distanze, unendo culture ed esperienze, seminando amicizie che aprono porte ancora troppo spesso chiuse o solo da spingere per lasciarsi alle spalle o comunque reagire, a difficoltà nelle quali si può trovare chiunque cadendo nell'immediato in un senso di solitudine. Lo fa la Freerider in tutta Italia come lo sta facendo Corro per Dama a Zara del Vallo e presto nella Sicilia intera. Lo fa l'Italia più bella, quella che fa meno rumore dell'altra, ma che sa far arrivare la sua voce dove è utile agli altri e a se stessa. Grazie.